Ed eccoci qui pronti, prontissime per continuare in compagnia del vostro Diablotex sul nuovo Star Ocean in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Plyon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Plyon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Plyon Italia per avermi inviato un codice di Star Ocean in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto il meraviglioso staff di Square Enix, tutti gli iscritti ma anche non iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Adesso senza perdere tempo andiamo avanti, però prima andremo a riposare per recuperare tutte le nostre forze, giustamente mi sembra doveroso farlo. Bisogna pagare qualche credito prima di dormire, ma fa parte giustamente se si va a dormire in un albergo o così via, bisogna pagare. Quindi anche nei giochi è giusto che sia così. Vediamo un attimino qui la mappa. Ok, abbiamo due destinazioni dove andare. Possiamo andare sia da questa parte che poi dall'altra. Vediamo un po'. Problemi di stomaco? No. No, non è così, ma... 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 Non è così, ma... Non è così, ma... Ma... Non è così, ma... Insomma, abbiamo una missione abbastanza decente da portare... Comunque, allora, comunque... Ok, dobbiamo uscire fuori dal villaggio, ma... Adesso comunque siamo in 4, quindi... Il mio team è composto da 4 personaggi, quindi dovrebbe essere abbastanza fattibile, insomma, portare la battaglia... Allora... Non è così, non è così, ma... 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 Purtroppo è passato a miglior vita Ma è un casino ragazzi Allora incantesimi Allora cura Eh si cura vai Vediamo un po Sono tosti Mamma mia Mamma mia ragazzi Eh non sono molto semplici qui eh Da buttare giù Credo che siano molto Pagheranno bene al livello di esperienza Voglio ben sperare che sia come dico io Altrimenti No anche perché qui potrebbe Potrebbe anche essere Una buona zona per livellare Quindi attenzione Potrebbe essere Una buona zona per livellare Vediamo quanti punti esperienza Possiamo ottenere Secondo me 3360 Insomma non sono Malvaggi Ma qui devo rianimare Il mio personaggio Giustamente Allora Oggetti Arti Vediamo un attimino Fermi eh Cura rapida Giustamente Ok Ma non possiamo usare Come si dice Ecco Cura tutti Giustamente Vediamo un po Va bene Ne abbiamo da percorrere qui ragazzi Mamma mia Ok I punti interrogativi sono Qui la mappa Qua è un po Come si dice ragazzi È abbastanza Mamma mia No no ma qui mi occorre Ragazzi è tosta qui eh È tosta Ma se voglio cambiare personaggio Possibile che Siamo morti tutti in pratica Siamo morti tutti ragazzi No no non è semplice Qui bisogna ragionare abbastanza eh Qui bisogna Ragionare abbastanza Allora Insomma Insomma Ok Riniziamo la battaglia Mamma mia Che casino Mamma mia Che casino Ragazzi È un dungeon Abbastanza Aggressivo Questo Molto Molto Aggressivo Sì Sì però Qui dobbiamo Buttarlo giù ragazzi Questo è un po È un po' complesso Come Forse possiamo Già tornare Poi il dungeon Insomma Vorrei girarlo Ancora un po' Per raccogliere Eh no Qui devo mettere Più protezioni E compagnia Cantando E quindi Wow Sale di livello Ragazzi Anche perché Lei è di livello 15 Qui prima di proseguire Verso questa destinazione Devo potenziare un po' Tutti ragazzi Perché altrimenti Vabbè innanzitutto Possiamo tornare Da dove siamo venuti Perché abbiamo raccolto Quello che ci veniva chiesto Però Ovviamente qui Il dungeon Sarebbe da girare Un po' Ok Sì ragazzi Sì ragazzi Facciamo Che torneremo Un attimo Nel villaggio Perché qui Devo potenziare Gli altri personaggi Che ho A disposizione Perché livello 15 Sono veramente Vanno messe Le giuste Protezioni Insomma Devo livellare In certe zone Un po' più Dove più concesso Livellare Nell'attuale stato Che Mi trovo Con determinati Personaggi E quindi Anche perché Poi qui Andando avanti Ci saranno Certi boss Che Non è che Saranno proprio Semplici Da affrontare Quindi Insomma Vedete Qui ci sono Dei personaggi Che vanno Livellati Ecco Dovrei portarli Almeno Tutti A un livello 24 25 Ecco Per Per stare Un po' più sereno Faremo un altro Combattimento E poi torneremo Nel villaggio Non vi preoccupate Perché vedo Che comunque Qui Questo qui Un po' tosto Questo come nemico Ah l'unione Fa la forza Giustamente Un altro Super trofeo Sbloccato E sono contento Di questo Comunque Bellissimo Questo capitolo Di Star Ocean Ragazzi Mamma mia Bello 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 Veramente Bello Sì Sì Credo che Me ne starò Un po' Qui Qui intorno Per livellare Sì Poi magari Quel dungeon Una volta Che ho Livellato I miei personaggi Possiamo Tornare Dentro Per completarlo Insomma Non è un problema Però Mi rendo conto Che attualmente Devo livellare Fuori in questa zona Sì Quindi andremo Un po' avanti Con la storia E poi Torneremo Qui al livello Torneremo A fare il dungeon Io me ne sto Qui fuori A livellare Ovviamente Dopo questo scontro Ragazzi Andiamo Per proseguire La missione Quindi Tranquilli Tranquilli Sereni Non mettetevi Fretta Di tutto State sereni Sulla questione Perché vedete Qui si può Livellare Bene o male Ma lì dentro Quella grotta È un po' Non è molto Permissivo Diciamo Ecco Lui è rimasto Immobile Quindi Cambio un attimino Personaggio Per combattere Un po' Altrimenti Ok Comunque Non sono Pochi punti Qui ragazzi Qui per livellare Va bene Dai un ultimo Scontro E andremo avanti Promesso Giusto Un ultimo Scontro Su Ecco qui E andremo avanti Con la storia Su Non mettetevi Sì sì Devo rimanere In questa zona Per livellare Poi Ritorneremo Dentro la grotta Ragazzi Appena sarà il momento Pochi punti Qui Devo Concatenare Qualche scontro Un attimino Un attimino Proviamo Proviamo Vediamo Vediamo un po' Vieni di qui Vai Eccoci qui Dopo di questo Andremo realmente avanti Che Giustamente Questo titolo Mette veramente Voglia di combattere Quindi Mette una gran voglia Di livellare Non annoia Non annoia E comunque La sua difficoltà Abbiamo la sua Difficoltà di gioco Non è semplice Non è assolutamente Semplice Ragazzi Non lo è E no Vediamo un attimino Molto bene Molto bene Ah è vero Abbiamo concatenato Due Due scontri Eh sì Perché per fare più punti esperienza Così bisogna fare Credo che oramai L'avete capito Credo che avrete capito Tutto insomma E insomma Qui bisogna potenziare bene Questi qui Sono nemici comunque Resistenti E non sono nemici Tanto Semplici Assolutamente no Vediamo un po' Quanti punti 9.792 Di esperienza Ragazzi Non so se mi sono Spiegato Non so se mi sono Spiegato bene Oh Cloud livello 32 Livello 25 Vedete Così possiamo Livellare abbastanza Oh Così mi piace Ora torneremo nel villaggio Poi per fatti miei Me ne torno qui a livellare un po' E poi andremo avanti Allora Tanto qui bisognerà parlare e fare Per continuare la missione principale Ma prima di fare questo Io vado a riposare Per recuperare le mie forze Come è giusto che sia Tanto I crediti Li abbiamo Abbiamo abbastanza crediti Non è che Possiamo rovinarci Per una dormita Insomma ecco Andiamo Vediamo come prosegue la storia Perché ovviamente Sono sempre più curioso Quindi Sono sempre più curioso Vediamo un po' Vediamo un po' allora in pratica mi chiede di tornare nella grotta giustamente e sì è quello che chiede però avete visto che raccogliendo l'erba giustamente nella grotta avevamo molti punti interrogativi però non ha senso che mi ha messo l'indicazione di tornare vabbè e allora qui dovrò evitare qualche scontro per trovare l'erba giusta vediamo saltiamo dov'è vabbè qui abbiamo il forziere qui abbiamo il forziere per l'erba giusta dove bisogna andare allora e vabbè allora ditelo che ditelo che dovete fare i balordi per forza lo dovete dire perché così ragazzi e beh vai un aiuto non guasta e beh no non guasta assolutamente non guasta assolutamente vabbè andremo a cercare altre erbe ragazzi cosa vi devo dire tanto sono convinto che adesso come raccoglierò un'altra erba con il punto interrogativo mi dirà che posso tornare nel villaggio ma a quel punto non tornerò subito ma andremo a raccoglierne altre perché non è che possiamo andare ogni volta avanti dietro avanti dietro e così via quindi ne raccoglieremo più di una e poi andiamo ovviamente bisogna trovare il modo di andare in queste zone vediamo un po se qui o qui non si può andare per il momento qui evito scontri e non me ne volete ragazzi non me ne volete vi voglio bene lo sapete però giriamo ancora tanto mamma mia no qui impossibile qui no vabbè qui ci rimetteremo le penne ragazzi qui non la vedo bene la situazione assolutamente non la vedo bene però però proviamo è il fatto che abbiamo concatenato tre tre scontri quello è la questione non è che la questione è quella ragazzi non ho qui bisogna rivellare come defabri altrimenti altrimenti avanti non si va e no comunque per il momento ma la sto cavando abbastanza bene sì per il momento diciamo che me la cava abbastanza allora qui però bisogna fermi tutti e oggetti fermi fermi e queste argille qui vabbè vediamo un alleato purtroppo è andato purtroppo un alleato è passato a miglior vita sì per modo di dire per modo di dire non è passato assolutamente a miglior vita ci mancherebbe siamo morti tutti no tutti no però ma si riproviamo lo scontro perché no perché no ma perché no ragazzi bene allora oggetti fermi tutti iniziamo riniziamo la battaglia vabbè non credo era il momento giusto per concatenare tre scontri qui è non credo era il momento giusto però vabbè è andata così e continueremo in questo modo continueremo in questo modo via è un bel casino qui ragazzi non si non si scherza non si scherza affatto no non si scherza mamma mia si però dovete darmi una mano qui ragazzi datemi una mano qui perché io da solo non è che posso fare chissà cosa eh da solo non posso fare grandi cose insomma non posso fare troppe cose da solo qui ovviamente io affronto quello ecco tutto io sto facendo ragazzi qui quasi come sempre no allora vediamo un po' qui ok incantesimi allora oggetti datemi un attimino eh vai ok era fondamentale ragazzi era fondamentale ok ecco no qui devo gestire bene un po' il mio team altrimenti altrimenti è complessa vai riniziamo la battaglia per la terza volta vediamo un po' riniziamo la battaglia per la terza volta giustamente e dico giustamente allora qui devo cercare vediamo un po' di sconfiggerli senza senza usare vabbè dai tanto dovrà pur ricaricarsi no? quindi no vabbè ok e fin qui ci siamo eh fin qui ci siamo alla grande ragazzi fin qui tutto è estremamente sotto controllo poi andiamo mamma mia però no no qui occorrono più protezioni comunque il gioco è veramente bello nonostante perdo di continuo a volte ho sempre una gran voglia di continuare a giocare quindi questo è un buon segno ragazzi è veramente un buon segno adesso e adesso mi diverto però e adesso abbiamo subito il nostro aiuto magistrale qui che no no questa volta possiamo possiamo forse farcela e vediamo un attimino se prego prego ora continua però nella battaglia qui che vai ce l'abbiamo fatta ragazzi bisogna calibrare tutto al meglio poi ce la faremo 14.288 punti esperienza vabbè follia follia pura via siamo alla follia pura allora qui abbiamo un'altra allora questo sta a significare secondo me ragazzi sta a significare che è una pianta normalissima che non ci farà purtroppo andare avanti nel percorso che dobbiamo gestire quindi io passerei quasi quasi qui sul ponte bisogna attendere un discorso un po' diverso secondo secondo il mio punto di vista quindi andiamo un attimino qui poi magari sto sbagliando questo non è che non lo metto potrebbe anche essere che io magari mi stia sbagliando perché può succedere no? può succedere sì ma partiamo già così? se partiamo già in questo modo ragazzi eh non va affatto bene non va affatto bene qui adesso ho imparato che se dice quella frase che sembra di aver già vista la pianta che abbiamo raccolto significa che non è quella non è quella quella che cerchiamo dovrebbe essere così la situazione poi staremo a vedere poi staremo a vedere se avrò ragione io oppure no secondo me ho ragione poi posso avere ragione ok qualcuno sarà ancora di livello non credo per un pizzico ma va bene così allora che strada stiamo percorrendo? ok dimmi che qui posso raccogliere è un bel casino qui ragazzi eh non è semplice però non è semplice però lì abbiamo un'altra piantina ma ho qui un bordello le zone per girarle tutte vediamo un po' mamma mia però che casino ah questa volta siamo in vantaggio noi non ci credo ragazzi non ci voglio non ci credo ok per una volta forse potrebbe andarci bene per una volta potrebbe andare bene qui la situazione quindi ok per una volta forse va bene ecco togliamo anche il forse è andata bene via livello 20 credo sia l'unico personaggio che sale di livello con questa battaglia ma va va più che bene mamma mia però ma se nel caso vorrei fuggire non è possibile vediamo sì sì non mi interessa io vorrei fuggire dalla battaglia sì perché non al momento non è il caso di affrontare tutte queste battaglie ecco al momento poi vediamo è un casino qui la strada è un casino ragazzi sì è un vero casino quindi mamma mia mamma mamma mia anche attacco alle spalle non ci manca più nulla non ci facciamo mancare nulla ragazzi assolutamente scusatemi se fuggo dalle battaglie ma credo che sia vediamo un po' anche questo quindi non dovrebbe portare a nulla di buono vabbè andiamo avanti ancora vediamo un po' il discorso è sempre quello non è che il discorso è sempre quello ragazzi ma lì giù come andiamo non l'ho ben capito sinceramente mi sfugge qualcosa sì anzi forse più di qualcosa comunque vabbè va bene ah vediamo se riusciremo a fuggire anche da qui sì sì ragazzi non è il caso di affrontarli ora qui la cosa che abbiamo urgente da fare è trovare queste piantine sì è un casino qui la strada e non è che ma da qui su mi posso buttare no assolutamente assolutamente no giustamente vediamo un attimino percorriamo queste zone vediamo un po' la vedo complessa la situazione rido per non piangere ecco rido per non piangere ragazzi no no ma io adesso fuggirò dalle battaglie solo perché per non far perdere tempo a voi ragazzi altrimenti io poi qui devo livellare sicuramente quindi lei è qui abbastanza sicura di aver visto questo tipo di pianta nei vari negozi diciamo no questo è quello che sembra poi vediamo poi vediamo anche qui fuggirò dalla battaglia se mi sarà concesso ok è un bel casino qui girare insomma io quasi quasi me ne torno nel villaggio si per vedere se giustamente possiamo andare avanti con la nostra fantomatica avventura oppure no si allora qui comunque qui ci sono strade che non abbiamo percorso quindi mamma mia non si riesce a fuggire qui ragazzi eh non si riesce no si riesce a fuggire in questo modo ma non nell'altro va bene va bene vediamo un po' qui eccola qui ragazzi dovrebbe essere questa beh il discorso cambia però vediamo un po' un attimo che qui siamo arrivati un attimino gireremo un po' ancora un pochettino ragazzi vediamo un po' qui vediamo un po' qui proviamo magari questa battaglia la porteremo a termine dai non possiamo sempre fuggire assolutamente no assolutamente non possiamo sempre fuggire eh no ecco paralizzato come sempre non è una novità ragazzi assolutamente non è una novità quindi vediamo un po' ok non è una novità quindi che viene paralizzato quindi non 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 ne resto sorpreso insomma ecco non ne resto assolutamente sorpreso ragazzi benissimo molto molto bene sì eccoci qui dammi un eh vabbè sì tutto questo bordello per 3968 punti esperienza mi aspettavo qualcosina in più però dai comunque sono serviti a salire di livello ragazzi quindi per quanto riguarda questa questione sono contento poi allora andiamo qui perché sembrerebbe che dico sembrerebbe no qui devo fuggire via qui via ragazzi diamoci la gambe qui diamoci la gambe non è il caso non è il caso attualmente vediamo un po' vediamo vabbè fermi tutti equipaggiamento potrebbe essere qualcosa per lui eh ah no no assolutamente no no allora vediamo un attimino qui ragazzi vediamo un attimino qui la questione bene qui possiamo vabbè ho detto qui possiamo andare tranquilli non credo tranquilli in questo titolo non si va mai sia chiaro sia chiaro che in questo titolo non si va mai tranquilli imparate sempre questa piccola questo piccolo problemino ecco uno dei nostri alleati purtroppo e dico purtroppo è passato a miglior vita o passata a miglior vita comunque è un bordello totale totale no non possiamo farcela qui ragazzi assolutamente ma riproveremo lo scontro questo è sicuro questo è sicuro sì tanto siamo morti quindi siamo morti tutti ragazzi che bello che bello che bello siamo morti va bene così riproveremo la battaglia ci mancherebbe la possiamo riprovare vai iniziamo la battaglia anzi fuggiremo dalla battaglia eh sì non si può fuggire naaa è finita ragazzi è finita è finita è finita male molto male finita sì mmm ho subito l'annientamento va bene vamos sì però se iniziamo così ragazzi non è giusto non è giusto incantesimi allora fermi tutti no no fermi tutti ragazzi allora cura tutti questo cosa fa vediamo anche questa volta abbiamo perso è purtroppo tosta 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 sì la situazione veramente tosta qui devo rimettere mano al mio equipaggiamento devo rimettere mano al mio equipaggiamento e potenziare qualcosa sì vediamo se riusciremo a fuggire speriamo speriamo niente non possiamo fuggire va bene ecco cura tutti sì ci vuole quello il cura tutti ragazzi con il cura tutti forse abbiamo qualche possibilità non è che la metto qui abbiamo una nuova sequenza moriamo tutti eh sì siamo tutti morti qui ragazzi un'altra volta abbiamo perso dai non è possibile no non è possibile su non è possibile non è possibile per la legge non è possibile ci sono tassi che che continuano non è possibile in la legge perché si combattimento combattimento vediamo un attimino andiamo su aumentiamo la difesa ragazzi perché qui la difesa mi fa comodo mentre qui cosa abbiamo allora ridiamo inizio la battaglia vabbè tanto da come ho ben capito qui non possiamo fuggire no quindi mi sembra di capire che non possiamo fuggire no allora io ho messo l'abilità cura tutti non capisco perché non cura nessuno vabbè no ma va bene così ragazzi non è un problema ci mancherebbe ci mancherebbe abbiamo perso di nuovo va bene bella figura proprio cioè stiamo facendo un figurone stiamo facendo un figurone ragazzi molto molto sì sì no vabbè non ci credo ok speriamo bene qui tanto un alleato comunque è morto comunque vediamo se possiamo rianimare vai fa sempre comodo rianimare un alleato e quindi un alleato fa sempre comodo via è tosta qui ragazzi è tosta è tosta però possiamo farcela adesso ah ok 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 dai forse la volta buona ragazzi è forse la volta buona no dico forse non è detto che poi riusciremo in questa impresa e non allora oggetti un attimino elisir via usiamo di nuovo a non posso bene oggetti via con elisir qui bene allora qui mi occorre una cosa adesso non me ne volete ragazzi e non me ne volete perché ok visto che lei deve curare giustamente gli servono i punti magia ecco vedete dopo che ho fatto una bella figura per modo di dire siamo riusciti nell'impresa siamo riusciti nell'impresa basta settare tutto per bene tutto va da grande comunque vediamo un attimino qui ma è livello 27 anche per farvi vedere un attimino che il gioco il titolo in in questione ha un po di difficoltà quindi non è che siamo sempre tutti allora siamo arrivati qui possiamo ripristinare tutto che bello abbiamo ripristinato che bello allora ragazzi no li andiamo avanti faremo così ragazzi perché io adesso sinceramente di tornare dietro non ne ho la voglia quindi interromperemo qui un altro episodio per quanto riguarda il nuovo star ocean in collaborazione con play on italia ringrazio tutto lo staff di play on italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale youtube ringrazio alessandra per avermi gentilmente inviato un codice del nuovo star ocean in versione playstation 5 ringrazio tutto il team lo staff di square enix tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale vi ricordo che se vi farà piacere di lasciare un like un commento condividere il gameplay e magari iscrivervi sul mio canale youtube ho avuto un po di difficoltà però per adesso ci fermeremo qui poi magari me ne sto un po a livellare qui dentro questa grotta e poi ritorneremo nel villaggio per vedere se se tutte le erbe che abbiamo trovato giustamente servono per andare avanti con la nostra avventura grazie di cuore a tutti vi do appuntamento al prossimo video e restate qui sul mio canale youtube perché ci divertiremo alla grande come sempre ciao a tutti ragazzi e ragazze e alla prossima ciao ciao